Il Vangelo secondo Matteo direbbe di poter votare liberamente alle primarie, mentre lacci e lacciuoli messi dai suoi concorrenti lo impediscono perché le persone vengono praticamente schedate. Si parlava con l'avvocato Rossella Angionini che per esempio uno come me che non vota da 20 anni gli piacì a Renzi e mi piacerebbe votarlo, ma perché mi devo schedare presso un partito per poter dare il mio assenso a Renzi? A me Matteo Renzi anche a me piace tantissimo e lo voterei molto volentieri, solo che sono costretta per andare a votarlo a sottoscrivere il manifesto della sinistra e naturalmente non sono di sinistra e quindi non posso andare a votarlo alle primarie. Certo, se dovesse vincere alle primarie io penso che nel segreto di quell'urna un pensierino per dare il voto a Renzi ce lo farei. Quindi nel nostro caso la sinistra in ogni caso preclude due voti a Renzi, lo fanno apposta, perché loro sono democratici, capito? E allora danno la parola, sono comunisti no? Ora io voglio sentire quello che mi dici su questi due uomini, questo è Bertelli, Patrizio Bertelli, questo più piccolino giustamente, come è importante, anche in foto, è il sindaco di Arezzo, Fanfani. La differenza basilare tra questi due è che Bertelli dà più lavoro e meno ferie agli operai e Fanfani farebbe meno affari più fatti e meno giaccere. Perché? Beh, dunque, allora, indubbiamente io dico sempre meno male che Dio ci ha dato Bertelli perché un'azienda come la sua crea una marea di posti di lavoro nella nostra realtà economica. E quindi dobbiamo essergli grati a quest'uomo per tutti i posti di lavoro che crea. Anche questo dimostra la sua intelligenza perché dice meno ferie, giustamente, più lavoro. E ha assunto altre persone e assumere al giorno d'oggi è una cosa assai. Non è buono. E quindi è un imprenditore di grande valore e, ripeto, per la nostra realtà economica, sia retina che quella del Valdarno, è un elemento determinante. Io sono fiero di essere concittadino di Patrizio Bertelli, un po' meno di Fanfani, anzi pareggio. E' un politico e, come tutti i politici, chiacchierano molte Fanfani. Ma voglio dire, la provincia, dice Fanfani, non è finita l'allarme, è continua. Aspettiamo a cantare Vittoria, ma cantare Vittoria che c'entra il cazzo con la provincia? Sono settimane che ci ammazzano con questa provincia, tra l'altro il presidente della provincia, appunto, è Vasai, non ho capito che cosa c'entra lui. Io fossi Vasai, posso dirla una parolaccia, mi incazzerei anche parecchio, visto che ho considerato che il presidente è lui e invece è quest'altro che si dà da fare. Fanfani, se prima il rischio c'è, caso Arezzo, ma che c'entra Fanfani? Sì, appunto, si è, diciamo, impossessato di questo ruolo che non è il suo perché dovrebbe essere il presidente della provincia. Tanto non c'è da tagliare niente, andrebbe, lui pensa, ora quando si Arezzo diventa provincia, mi fa tagliare qualche nastro, anche a me. Non c'è niente da tagliare. A meno che lui pensi di andare fuori a fare il presidente della provincia quando finisce il suo mandato. Può darsi, non lo so, si fa processare le intenzioni. Tu poi te lo dico. Va bene, non mi dico niente. A telecamere esperte. Senti, chiuderei con questo cuoco. Chi è? L'hai letta, chi è? Quel cuoco che voleva sodomizzare è stato condannato. Molesti al cuoco. Ah, sì, sì, sì. Un anno e otto mesi. Vergogna. Ma non è che l'ha sodomizzato per un anno e otto mesi. Un anno di fila. No, diciamo gli ha fatto dell'Avanz, su, che ci stanno ascoltando. D'altro anno è in un ristorante. L'Avanz ci sono sempre. Sì, ci sono sempre. Comunque ha fatto bene. Ma dentro lo dovrebbero mettere, in galera, no? Dagli solo un anno. Se vi fanno l'Avanz, metteteli in frigorifero, che si ricicla tutto. Tutto. Grazie. Prego. Ciao.